benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui in questo video diciamo un po particolare come avrete letto dal titolo voglio fare dei cambiamenti sul canale e questi cambiamenti avranno effetto diciamo immediato tra circa una settimana martedì infatti farò uscire il video di rework diciamo delle skill del comandante aggiornato per quanto riguarda gli incrociatori e poi sabato prossimo ci sarà un annuncio di una nave premium e veramente la porteremo in recensione quello che semplicemente volevo dire in questo video siamo intanto a bordo del leone non avevo mai recensito e quindi prima o poi magari la porterò in futuro sul canale anche se fuori da piuttosto da piuttosto tempo quindi è un po una nave vecchiotta dicevo voglio portare alcuni alcune modifiche di tempistiche al canale di youtube questo vuol dire che in futuro non ci sarà più una scheda cosa vuol dire vuol dire che invece di lasciare un video ogni martedì e ogni sabato abbiamo quasi sempre fatto in questi quasi due anni perché il canale praticamente tra circa un mese e mezzo compierà due anni canale di youtube ho deciso che effettuerò un'attività di youtube unicamente per le navi premium cosa vuol dire vuol dire che a parte qualche video sporadico della blizzi academy in futuro io mi dedicherò unicamente alle navi premium questo perché ho deciso ieri di non giocare mai più mai più in live almeno maggior parte delle serato non le farò più in questo modo le random battle io non le voglio mai più giocare il livello di world of warships negli ultimi mesi è precipitato a livelli in veri condi io non non ricordo di aver mai visto nulla di simile nei miei sei anni qui come sapete ho iniziato a giocare quando il gioco era ancora in closet beta nel febbraio barra marzo del 2015 e da lì non mi sono mai preso delle lunghe pause se non magari un mesetto ogni tanto ma è caduto veramente in maniera sporadica dicevo il livello del gioco comandanti è arrivato a livelli bassissimi ormai non c'è più logica battesci che camperano a bordo mappa o che scappano le prime avvisaglie di battaglia destroyer che vengono disintegrati nei primi secondi di partita oppure che non conquistano mai le basi non fanno il loro lavoro di scouting incrociatori che implodono in pochissimi secondi dando il brazzare del nemico oppure giocano all'altezza delle corazzate a 20-22 chilometri installando moduli digitata allungata in modo che possono sparare a quelle distanze navi completamente ormai fuori meta che potendo sparare a corta distanza non vengono praticamente più utilizzate perché sono assolutamente danneggiate in questo sistema dove viene privilegiato chi spara più lontano insomma gioco è arrivato a un livello comandanti che dispiace dirlo ma dal mio punto di vista è veramente schifoso cioè il il attualmente il meta attuale delle random fa schifo non c'è più divertimento non c'è più logica non c'è più tattica non c'è più team play non c'è più niente semplicemente è una cozzaglia di persone che si tirano bastonate a distanza spesso a 15-20-25 chilometri ma mai sotto i 15-16 e praticamente il divertimento in questo modo è dannatamente minato perché non c'è più quella bellezza nel giocare insieme che prima era presente in world of warships qualcuno potrebbe dire a me ma blizzard ma se vuoi giocare in maniera coordinata devi farlo in divisione oppure devi farlo nelle clan battle è assolutamente vero però vedete io non sto dicendo che bisogna giocare alla perfezione come se fossimo il king of the sea o in qualche torneo competitivo sto semplicemente dicendo un minimo di livello che la gente dovrebbe avere giocando a questo gioco e invece grazie ai consumabili grazie alla count premium grazie alle continue e assurde campagne che permettono alla gente di ottenere free exp e altre risorse che permette una più facile sviluppo dei vari rami navali la gente arriva ai tier alti e non sa assolutamente niente di questo gioco non sa niente arrivano a un certo livello e non sanno minimamente l'uso dei consumabili le posizioni le mappe ci arrivano praticamente in un centinaio di partite al tier 10 e quindi a quel punto loro sono totalmente impreparati a quello che gli aspetta è solo che finché queste cose vanno a minare il loro divertimento allora a me non mi interessa niente dato che praticamente queste cose minano anche soprattutto il mio di divertimento io comandanti non voglio più dedicare lo stesso tempo di prima a questo gioco mi dispiace sto cercando di orientarmi anche su world of tanks che trovo molto più dinamico veloce e anche se lì ogni tanto cadono delle cose strane e assurde che poi purtroppo accade spesso nei giochi della wargaming almeno in quell'ambito la sofferenza dura poco poi invece a volte capitano delle partite dove veramente ti viene voglia di spegnere il computer e andare a dedicarti ad altro e questa cosa secondo me è controproducente per il divertimento e la qualità del gioco in sé anche gli ultimi rami navali che sono stati rilasciati cioè sono rami navali che non lo so e mi lasciano un po' allibito la scelta delle navi premium che sono sempre di più in questo gioco ormai e continuamente rilasciano navi premium prima lo facevano solo con i gold adesso lo fanno con miliardi di risorse diverse e anche questo va a minare il bilanciamento del gioco perché escono navi che non hanno logica alcune sono navi che secondo me non vale nemmeno la pena di considerare Altan invece sono talmente potenti che da sole sbilanciano tantissimo le partite insomma World of Warships è diventato un gioco almeno da giocare in singolo fortemente problematico e non più divertente come un tempo e quindi io non ce la faccio più comandanti a rilasciare contenuti continuamente il canale di Twitch andrà avanti cercherò di aumentare per quanto riguarda il numero di live di World of Tanks che io trovo molto più divertente di World of Warships però questo gioco comandanti secondo me ha preso veramente una piega fortemente negativa e io non so veramente cos'è la wargaming intenzione di fare per cercare di dargli una sistemata anzi addirittura cominciò a pensare che effettivamente non vogliono dargli una sistemata perché forse a loro va bene così oppure a loro sono soddisfatti così dal gioco io da giocatore non lo sono assolutamente quindi se in futuro vedrete il canale di YouTube con lunghi periodi di inattività non prendetevi male non pensate che io abbia abbandonato il canale non lo sto abbandonando però semplicemente porterò solamente le navi nuove uscirà nave premium io pubblico la recensione e ve la faccio vedere esce un nuovo ramo navale cercherò di fargli una recensione uscirà qualcosa di interessante continuare ad essere curato sul canale di YouTube ma per il resto non aspettatevi più due video a settimana perché magari ci saranno periodi nel quale ne usciranno due e periodi nel quale non uscirà assolutamente niente questo video appunto nasce proprio per la mancanza di idee e di entusiasmo perché vi giuro che è passata una settimana intera quasi dall'ultimo video e io non so cosa portare perché non mi piace niente di quello che c'è e di quello che gioco e io non ce la faccio a fare qualcosa che non trovo divertente sono sicuro che qualcuno dirà ma Blizzard tu devi portare via di qua e di là non me ne frega niente di quello che pensate perché la maggior parte poi delle persone che scrive qua scrive e basta poi neanche supporta il canale non fanno niente per il canale di per sé quindi lasciate un attimino da parte il vostro egoismo e mettetevi nei miei panni che sono statisti e dedico tantissimo tempo a questo gioco e a un certo punto mi sto quasi rendendo conto che sto perdendo tantissimo tempo che potete dedicare ad altro e divertirmi molto di più io credo che abbia raggiunto il limite della sopportazione e non sono quel genere di persona che fa cose contro voglia o fa cose contro la propria volontà è sempre stato un mio limite anche dal punto di vista lavorativo quando c'era qualcosa che non mi piaceva io cambiavo lavoro e andavo a fare in un'altra azienda proprio perché non mi piaceva magari la politica aziendale in quel momento ecco con il gioco è ancora peggio nel senso che qua nemmeno mi pagano quindi nel senso non è che posso fare qualcosa contro voglia continueranno le live su Twitch continuerà sicuramente l'attività come ho detto prima su YouTube però comandanti io non ce la faccio più a giocare in qualcosa che sta diventando terribile dal punto di vista proprio dell'intrattenimento io non trovo più nessuna logica nel giocare in questo gioco dove va sempre peggio cioè mi mancano anche le parole non so veramente cosa dire io non so cosa pensate voi magari se qualcuno vuole scrivere nei commenti se condivide con me questo aspetto se ha notato questa decadenza ultimamente nel gioco però comandanti qua la situazione è sempre più precaria escono navi premium assurde escono rami navali assurdi adesso hanno annunciato che il ranno prossimo uscirà questo ramo degli incrociatori panasiatici cioè boh i sommergibili prima o poi arriveranno nelle random battle e secondo me rischiano di renderle ancora più soporifere io non so se veramente la wargaming si rende conto della situazione della qualità attuale di world of worship perché esattamente come mi sto stancando io ci staranno stancando anche tanti altri di giocare e non so fino a che punto il gioco possa reggere di questo passo sono convinto che tanta gente nuova arriverà si divertirà giocherà e magari lo apprezzerà anche i primi tempi però poi scapperanno tutti perché è quello che accade se guardate c'è un riciclo di player base continuo questo perché poi la gente arriva a tier 10 gioca anche a partita si rende conto che il gioco non ha una profondità vera e propria e a quel punto prendono e passano ad altro non tutti sono appassionati di navi come me e quindi restano qui perché dicono ok amo le navi e quindi vado avanti a giocare in tal punto però a un certo punto la gente penso si spazienterà anche e smetterà di comprare le navi e di giocare a world of worships a un certo punto poi devi smettere devi cambiare la tua politica se vedi che i giocatori se ne vanno e non si forma più quella solida base che ha sempre consolidato diciamo i tornei e l'aspetto hardcore di questo gioco che ormai è praticamente arrivato a un livello di di decadenza come mai visto prima c'è poco altro da dire qua guardate questa partita ad esempio è durata 10 minuti ma la partita è già finita da almeno 3-4 minuti perché guardate c'è una netta superiorità dell'altra squadra che ha completamente schiacciato gli avversari guardate un po' siamo arrivati a 108.000 quasi di danno potenziale anche qui guardate il lavoro del destroyer non conta tanto il danno che fai conta il posizionamento lo spotting che stai facendo grazie al mio spotting abbiamo fatto quasi 110.000 di danno sul nemico e adesso andremo anche ad ammazzare la porta aerei dicevo quindi non prendetevi paura non sto chiudendo il canale non sto cambiando gioco semplicemente ho deciso di dedicare molto meno tempo a World of Wars rispetto a quello che ho fatto fino adesso io ho visto addirittura gente che fa live da 4-5 ore su questo gioco io li invidio tantissimo perché non so che pazienza possono portare oppure magari non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e hanno quel tempo da dedicare a questo gioco non sto parlando di quelli che guadagnano dei soldi streamando perché in quel caso se hai tantissimi giocatori che ti pagano è logico che lo fai per lavoro ma c'è chi magari fa anche streaming da 5-6 ore senza ricevere manco un abbonato o forse un abbonato ragazzi il ragazzino che guadagna che porta le pizze a casa prende più soldi di gente che gioca a questo gioco probabilmente anzi sicuramente e dicevo io non riesco a resistere più di un'ora quando gioco a World of Wars se guardate anche le live recenti siamo presi a volte delle pause cerchiamo in un attimo di dialogare anche con gli iscritti o quelle persone che sono lì perché a un certo punto non so veramente come riempire il tempo il gioco è arrivato a un livello veramente assurdo mai visto prima guardanti non so che altro dire è un video creato così molto veloce ve l'ho detto prima non prendete vapore non sto lasciando il gioco semplicemente in futuro ci prenderemo delle lunghe pause perché è a parte la blizzard academy e magari finiremo anche la playlist della regia marina per il resto io voglio fare unicamente video delle nuove navi daremo spazio solo alle nuove unità tutto il resto di World of Warships per me non esisterà più da blizzard comandanti è tutto noi ci sentiamo martedì con il rework delle skill dei cruiser e sabato prossimo appunto con l'annuncio di una nuova unità premium che porteremo in recensione comandanti a tutto buona caccia voi che riuscite ancora a giocare a questo gioco grazie a tutti